Siamo alla terza puntata di Dead Space Qua si può prendere niente? No Qua si può prendere niente? Yeah Crediti Mad piccolo Ok Ok no niente siamo a posto Ci dovrebbero essere i miei amici qua Speriamo bene Io a correre perché ho paura Oh fuck Oh fuck Oh 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 Che cazzo sei tu? Ricarica sta merda Ok Sì vabbè era scontato che non sarebbe stato tutto semplice Però cazzo Questa dovrebbe essere la nostra base La nostra cazzo di nove Ok dovrei farla avviare Oh cazzo Oh porco due No 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 dove cazzo dove andare? Non sto più comandando io Non sto più comandando io Oh fuck Corri Porca puttana corri Lurido porco Corri lurido porco Ma io ho di merda Dai fammi tornare i comandi cazzo Sono nella merda Sono nella merda Eh no però cazzo Eh no No Oh fuck Oh cazzo Io tento di gambizzarli ma Questi porci senza senso restano vivi Oh cazzo ho finito Oh cazzo Aspettate Aspettate C Ok Me la squaglio? Sì che me la squaglio Corri Ho usato il coso per bloccarli Temporaneamente Se ce la faccio scappo Sennò sono nella merda Spero che mi sentiate Perché il volume qui è altissimo Apre questa merda Apreti ti prego Apreti Apreti Oh ma che cazzo aspetti? Brutto bastardo figlio di troia Oh fuck Dove devo andare? Che succede laggiù? Che fine ha fatto la navetta? Era il nostro biglietto di ritorno Eh ficcatelo nel culo Troia Non funziona C'è un blocco esecutivo Di tutti i sistemi primari Senza l'autorizzazione del capitano Non posso accedere Allora dov'è capitano? Devo andarci io naturalmente Vero? Eccolo qui Capitano Benjamin Matthews Posizione Infermeria Stato Morto Ma ecco Punto sotto Non posso accedere a quei dati Trova il capitano Con i suoi codici di autorizzazione Posso far funzionare Questo compito Ma se ne trovi Aventù Da vedi tu? Ho fatto io Questo cazzo di posto La tua posizione Raggiunge l'infermeria E trova quelle righe Ma fanno in fretta Ma certo Spero che vi affettino Brutti figli di Oh Quanto mi dispiace Più che altro sono senza Acquistano Armi Oggetti Ok Questo è interessante Visto che ho finito le munizioni Olè Magia Magia Lama Plasma Ce l'ho già Pistola Multiragio Fucile Impulsi Quanti crediti ho? 9000 Fucile Impulsi Con elevata cadenza Di fuoco Eh Molto interessante Sono un po' indeciso Pistola Multiragio Tranciatrice Ad ampio raggio Con mine A tempo Alte l'armi? No Beh a questo punto Compro questa Sì No Potrei vendere No Non le venderò Invece Ok Vediamo un pochino Se posso usarle innanzitutto E come si cambia l'arma Soprattutto Le icone delle armi rosse Indicano l'assenza di munizione Del caricatore Ah Cambio armi 1,2,3,4 Quindi Wow Ma questa è una bomba Senza senso Come direbbero Alcune Alcune persone Eh Devo andare dove? Oh Cazzo Devo andare all'infermeria E devo passare Là dentro? Vuoi salvare i progressi? Naturalmente Sì Ma Ah mi fa salvare così Bello Ho sempre paura di Dover ricominciare da capo Mi prendo delle scatole un po' Ricominciare da capo Capitolo 2 Terapia intensiva Usa le modalità di fuoco secondaria Delle armi Per scoprire nuove strategie Come cazzo si usano le modalità di fuoco secondaria? Con la C Dai Allora Dove devo andare puttanella? Non mi fa Ancora camminare Dove? Ma che cazzo Ah è una nave questa No aspetta di non capire No scusate Dove mi chiedevo andare? Ah Che cazzo sei tu? Sapevo che sareste arrivato Come avevi detto Sì Ai vermi Porcaccia Modulo cinetico Spostare e lanciare oggetti Wow Come arazzo si usa? No scusate Vuoi vedermi i comandi Io perché Non mi ricordo come si usa L'arma secondaria Comandi Modalità di mira Ricarica secondaria Spazio Oppure il tasto centrale Cioè io sto mirando Faccio così Oh fuck Che cazzo ho fatto? Beh perdono Allora Oh cazzo Cazzo l'ho rifatto Sinceramente non lo so Va bene va bene Ah F Afferrogetto F Che ne so io Io farò lei What? What? Le ho preso Ehi Ehi Blu Ti serve? Tieni No la metto qui Scusate Eccomi qua Allora si stavo giocando con una gamba Ah ok mi serve per spostare questo probabilmente F No va fanculo tu F E lo mettiamo Cacchio ne so Ah non lo posso mettere dove voglio Che ne so lo lasciamo qui E poi dove devo andare esattamente What the fuck Allora fermi tutti dove devo andare Avanti Perfetto ci posso passare qui Yep Ma che cazzo è? Parcogli i documenti per aggiungere oggetti al negozio Quali cazzo i documenti sono? Scusami un attimo Sono qui per terra Per caso non li ho visti? No Forse non sono ancora Qui Va bene andiamo avanti Oh fuck Ah ah Lancia fiamme Porca miseria l'avrei comprato Apertura apri Mas Puttana Eva mi son cagato Sì ok Pia 0 G in fondo al corridoio Le comunicazioni sono inutili Pugue tantane Quindi dove devo andare? Ok posso salvare Innanzitutto salvo Per carità di dio Ah tra l'altro ho attivato la cosa di Origin Che usa il suo cloud Per salvarmi Per salvare i file di salvataggio Quindi se io accedo ad un altro computer Ho i file miei di salvataggio Molto figa la cosa Non sapevo neanche dell'esistenza Magari voi lo sapevate io no Però dettagli Dai apri questa merda Che cazzo è questo rumore di mosche? Odio questo rumore di mosche Oh fuck Ma che merda è? Fuoco secondario o spazio? Ok Oh oh si è mosso Oh fuck Sono io che ho dato un calcio Scusami perdono Ok a sinistra Perché questo non mi spira fiducia? Ah no Ok Vi rialzate voi? No ma sento un rumore strano Tu che cazzo sei? Perché c'è La ricarica del modulo di stasi Ah Ah Ok Poi devo aprire questa porta Apri ti sei da no Io ho sempre paura di incontrare qualche What? Ah ok Dove devo andare? Sinistra Ti pareva Porca Eva Solo quando entro lì Oh porca puttana Oh che arma Mi piace Quest'arma è bellissima Oh fuck Ho finito Ho finito Sono nella merda Sono nella merda Sono nella merda Sono nella merda Uccidilo Ricarica quella merda Coo Coo Sono morto Scappa porca Eva Scappa Ce la posso ancora fare Ce la posso ancora fare Sono un cazzo di cosa medica Quindi dovrà esserci qualche Medikit Cazzo ne so Sì Ok Poi mi serve energia Oh fuck Sono morto Sì sono morto Ok Calmi Oh mio dio Perchè Mi serve un Energia Ok 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 Oh fuck Dove sto andando Ok Ok Mi serve energia Mi serve un medikit Ho sbagliato a posto Ho sbagliato a posto È bloccato Che ansia Fatemi fare un giretto qui Magari c'è qualcosa Magari riesco a farlo A trovarlo prima di morire Oh fuck Ciao Ok Perfetto Proprio perfetto Vabbè a questo punto Chiudo la puntata qui Io sono Spiegerontato Se il video vi è piaciuto Mettete in viaggio Scrivetevi Condividete Mi trovate sempre su twitter Google plus O sul mio sito Spiegerontato Punto x10 Punto mx O sul nuovo sito Spiegerontato Punto ml Che forse Sarà ancora in manutenzione Non lo so Sinceramente Eeeh Il timer mi dice Che è finito il tempo Lo so E niente Io sono Spiegerontato Ciao a tutti Spero che vi piaciano questi video Ciao